La marcia compie 40 anni. 1975 una decina di temerari che hanno partecipato a un'altra gara dello stesso genere si sono resi conto che Cogne poteva essere un luogo, una località dove organizzare un evento simile. La marcia è diventata negli anni il simbolo della stagione invernale a Cogne. È cresciuta sia grazie alla partecipazione di tantissimi valdostani che sono come sempre i protagonisti della marcia ma in questi anni sono arrivati a Cogne anche tantissimi stranieri grazie proprio alle nostre piste e alla nostra gara. La marcia è una competizione che si snoda in un percorso molto vario sia a livello di altitudine partiamo da 1400 metri e arriviamo a 1800 metri quindi anche a livello di dislivello è molto ampio e è molto ricercata proprio perché all'interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso attraversa quindi boschi, prati ed è veramente molto molto suggestiva. 2023 quarantesima edizione sarà un'edizione con tutti i fiocchi torneremo alle origini cercheremo di ripercorrere gli anni passati per esempio con i ristori quest'anno torneranno i ristori classici con cibo e bevande un po' alternative anche per chi la marcia la fa senza guardare l'orologio ma semplicemente per divertirsi.